Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Guelta Leale Eccoci qui di nuovo con Bud Spencer e Terence Hill Slap & Beans Riprendiamo da dove ci siamo lasciati quindi con il primissimo livello completato Andiamo al secondo quindi livello del treno andiamo subito a bomba Grande con sportiveggianza anche aspetta siamo sempre Bud si ok Ma dobbiamo arrivare prima di Terence o è giusto così per... Aia! All'inizione Eeeh comunque è fighissimo dai il... Non so voi mi ha fatto venire una voglia estrema A parte qua stiamo prendendo tutte le casse di rivedere i film Eeeh comunque come detto un altro aspetto sono le musiche spettacolari Che vabbè mi ha segnalato già il primo video sicuramente segnalerà anche questo però vabbè Come detto le musiche le lascio perché sono... Aspetta ma quella bomba esplode? Ho capito Sì ok Eeeh quindi vabbè pazienza per le musiche purtroppo verranno segnalati i video ma ci sta Cioè ci sta purtroppo questo è quindi Eeeh però ve le lascio ve le lascio perché comunque meritano meritano Attenzione lo scerifo Aspetta risuona da panico Tra l'altro ho visto che ci sono anche altre combinazioni Vedete lo schiaffo quando premete insieme anche altri tasti In modo estremamente abusivo Aspetta possiamo scassare anche questo Mangio i fagioli va che avevamo fameggiata prima Aia Usiamo anche un po' Terence perché vi faccio vedere Anche Terence ha l'abilità speciale che in questo caso è quella degli schiaffi combinati Vediamo se riusciamo Eccolo qua Eh però no No non l'abbiamo preso alla grande E' più agile Terence Dai Vai No Aspetzione Occhia la bomba Ok Vabbè Eeeh Vediamo se riusciamo Vabbè questo lo premiamo che è un classico Anche di Terence Vediamo gli schiaffi Eccolo Eeeh Non è partita bene la combo perché Vedete abbiamo le barre sopra blu Che ci indicano quando possiamo Maledizione Passo anche sopra Eh lo stoniamo però Quando riusciamo a Oh e vabbè qualcuno in più Gliel'abbiamo dato Però non lo so Bud mi Mi garba di più e più prepotente Tra virgolette Gigante buono alla fine È sempre stato Ma E' questa la cosa bella di questi film Che comunque hanno interpretato Eeeh Ruoli che appunto Come diceva Nell'inizio All'inizio Quella presentazione Eeeh Cioè alla fine erano sempre Da parte dei buoni Aia Aspetta Ah no quelli Secondo me li dobbiamo ritirare Comunque Prendete pazienza Oleh Eeeh Quindi Aia Aia Poi Bud Dai Eeeh Spettacolare Nel diversi film Bananaggio Dai Ce ne stanno tantissime Che sono Un stop Se noi premiamo Andiamo a scassare Il La cassa Quindi non mi sembra È caso Ah no dobbiamo Premi Non ho sbagliato Eh no Non l'ho beccato Dai Eh queste con la mira Così faccio cagare Lo so Quindi Aspetta Vai vai Noo Veloce Eh vabbè sto cazzo Tirali più vicino Per favore Che Ah ok No ce la Ma che cazzo Vabbè Abbiamo completato Lo stesso il livello Va bene Va bene Eeeh Volevo farvi Un video a livello Però siccome ci siamo Magari ce ne facciamo Più di uno Questo è durato Veramente poco Quindi dai Andiamo agli studios E ripercorriamo Diversi film Ok questo Quindi siete andati Davvero bene Considerando che era Il vostro primo film Sì sì va bene Posso avere i miei soldi Ora Certo Ve li siete guadagnati La mia assistente Sofia vi aspetta In ufficio Con gli assegni Ah la bellissima signorina Sofia Cosa stiamo aspettando Andiamo Ok andiamo Dica Ora non ho tempo Sto lavorando Ah no Non pestiamo Gli addetti ai lavori Per favore Questo film Sì è un successo Come no A parte che schiaffi e fagioli Sembra un titolo Più adatto A un video Hai sentito La signora 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 Sofia È impegnata Ripassate domani Ma che Non hai sentito Quei rumori Potrebbe essere in pericolo Levati Facci passare Altrimenti Altrimenti Ci arrabbiamo Scusate Altrimenti Ma come Beh Altrimenti ci arrabbiamo E beh Ci stava Scusate Ok ragazzi Piano B Andiamo a dire Questi due a calci Vabbè Scatta la rissa Va Attenzione Anche negli studios Vai così Mamma mia La prepotenza Prepotenza buona Perché come detto Era un gigante Buono Purtroppo La Comparso Credo Lo scorso anno Se non mi ricordo male Nel 2016 Carlo Bud Spencer È morto Però Si vedeva Anche se vedete Le interviste Si vedeva Che era Un simpaticone Cioè Veramente un gigante Buono E il sorriso Con il faccione Simpatico Ha segnato Infanzia E non Un po' Di tutti Perché come detto Era sempre Un gigante Buono Dalla parte Dei più deboli Quindi Hanno interpretato Come si diceva Appunto all'inizio Una tipologia Di film Scanzonati Ma divertenti Non Cioè È quella Comicità Che diavolo È successo Sono impazziti Tutti Poi riprendiamo Te lo dico io Cosa è successo Quelli si sono appena Rubati i nostri soldi È la mia ragazza La tua ragazza Ma se non ti ha mai rivolto La parola Le parole Non servono Dopo i provini Mi ha guardato dritto Negli occhi E mi ha sorriso Dobbiamo trovare il regista E spiegargli L'accaduto Ok È una comicità Si scanzonata Ma Mai Diciamo Sopra le Ma si è fregato La nostra birra Mai sopra le righe Nel senso Non è andata Sul Tre sciume Se vogliamo dire così Ma è sempre stata Una comicità Leggera Ma Bella Non come Molti film Che magari Si vedono adesso Sono stati Dei grandi interpreti E come detto Anche La Le tematiche Alla fine Trattate Nei loro film Per quanto Possano essere I film leggeri Adatti a tutta la famiglia Però Comunque Sempre con buoni propositi Dai Mi dico Banana Joe Ma io non lo conosco Questo Pinco pallino Ma chi è Questo pinco pallino Dove sei nascosto Quel maledetto Sta scappando verso destra Si è scappato No è a sinistra Dietro No anzi A destra Nell'ufficio No è di Fermi ragazzi Idioti Perché quei due Sono ancora liberi Prendeteli Penseremo dopo A quel mediocre regista Ehi giovani Spezze e mani Chi trova un amico Trova un tesoro Solo Puffin Ti darà forza E grinta a volontà Dai Dai Sono tormentoni Che Rimangono nel cervello Infatti Mi ha fatto venire voglia Di rivedere i film Anche inizioni Perché Come hai detto Sono Un ricordo Un ricordo Non solo di infanzia Perché come hai detto Ogni volta che capita Classico R3 4 Filmone Te li riguardi sempre Ben volentieri La Posto Ancora Però Il sound Non è proprio Come mi aspettavo Un po' Magari Ci sarebbe stata bene Quella del coro Vi ricordate Quando Bad era nel coro Se ne sono andati Che era molto semile Sì E ci devi parecchie Spiegazioni Hanno rapito La signorina Sofia E metà del set Era complice E i nostri soldi Hanno rapito Anche quelli Rubato Si dice rubato Anche i miei soldi Hanno dei sentimenti E ho un rapimento In tutto e per tutto E posso andare Quindi No Va bene Vi dirò Quello che so Questo film Il cast E tutto il set Sono stati finanziati Da un certo tango In cambio Dei soldi Ha imposto Due condizioni Scegliere lui La mia assistente Ovvero La ragazza rapita E tutte le comparse Del film Voleva scegliere Anche i protagonisti Ma non si sono mai presentati Quindi abbiamo Preso voi due Quindi questo tango Prima ci offre soldi E poi li rapisce In realtà Dal racconto Sembra più interessato La ragazza Che i soldi Quello interessato Alla ragazza Sei tu Dobbiamo comunque Arrivare a tango Signor regista Idea di dove Potremmo trovare Dove potremmo trovarlo Oggi si svolgerà Una gara In città Il signor tango Premierei vincitori Bene Che aspettiamo Andiamo a vincere Questa gara Ma non abbiamo Una macchina Per gareggiare Non ancora Non so perché Ma un bruttissimo Presentimento Invece Il presentimento Che si tratterà Di una Eccola Lela Di un baghi Rossa Con cappottina Gialla Lascia fare a me Salve Solo i piloti Possono entrare Ma noi siamo Piloti Presentatevi qui Entro un'ora Con le vostre Macchine Certo Magari Possiamo fare Un giro Dentro Dentro Intanto Sto perdendo La pazienza Tornate con le vostre Auto Ora sparite Ok Non è andata Proprio Come avevo Immaginato Ah Dici Che poi Bello anche Vi ricordate La sfida Dei Viewstel Birra Sempre durante Il film Di altrimenti Ci arrabbiamo Bellissimo Cos'è novellini Vorreste Partecipare A una gara Di rally Senza macchina E voi Chi sareste Siamo i piloti Scelti Personalmente Da tango Vincitori Degli ultimi Tre campionati Ci rivediamo Quando avrete Imparato a guidare Sfigati Possiamo Menarli male Per favore Pensi Quello che Sto pensando Io Ehi Voi non potete Stare qui Io dico Di sì Alla fine Non erano Così antipatici Ci hanno prestato Le auto Prestato l'auto Già bastava Chiederlo Gentilmente Infatti Bene Siamo pronti Per gareggiare Gialla con Cappottina rossa No io voglio Quell'altra Scusate Abbiamo completato Anche questo livello E Vabbè Vediamo un pochino Magari Ce ne facciamo un altro Non so se Durerà troppo Il video Vediamo Ci facciamo la gara Dai Mi sto infognando Tantissimo Pronti Dove siamo Oddio Il timido Aspetta Ma Ah ok I tasti sono Quelli Geronimo Geronimo C'era Geronimo No Attenzione Il sound Il sound Ok Segnalazioni con la pala Ma Cioè se non facciamo la gara Con questo sound Sì ma Siamo già partiti Malissimo No Sto andando giù Secondo me no Aia Aia Non è che siamo ultimi Di più Piano Ma Non è che Sguiscia Di più Mi sto zitto Perché voglio sentire Il sound Come detto Segnalerà Tutti i video Però Già lo sapete Il primo è stato Già segnalato Saranno segnalati Anche questi Purtroppo Quando ci sono Musiche coperte Da copyright Non c'è niente Da fare Vabbè siamo Lontanissimi Dai primi Sai che dovremmo Rifarlo Sto livello Ah no Aspetta Eccolo Aspetta No Troppo Dico che non è per niente Facile No Ma mi sto schiantando Malissimo No Vai No Ah è un punto Ma no Ma scusate Vabbè Eh Ultimo giro Ma ormai No Lunghi Naturalmente Non freniamo Perché No Sì ma Sguiscia Come se non ci fossero domani Comunque Capisco che Un rally Però Scusate No Ho capito se è una Scorciatoia questa Ma qualcuno si è schiantato Perché siamo passati in ottava posizione Senza superare nessuno Quindi Probabilmente qualcuno è stato eliminato Vabbè Tanto ce la dobbiamo rifare Ho capito Ahia No L'edizione Ha squiscia tantissimo Eh togliti E Ciao mare Vabbè me la rifaccio volentieri Già solo per La canzone No Eh cazzarola Non vietevi No Vabbè ciao mare va Uppela Aspetta che abbiamo tagliato tantissimo Dove vai Vabbè va No Questo è improponibile Comunque Vabbè ma Rifaccio Dai 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 Spostati Spostati Via Ma anche in destra a sinistra Non è che sia poi così semplice A fare No siamo in ultima posizione Andiamo bene No No E dai No E vabbè ma è improponibile Scusi Eh sto cazzarola Io vi giuro è veramente difficile Dare queste cose È simile a alcuni vecchi titoli da sala giochi Effettivamente di guida Però Tutto è reso un po' più complicato Dalla Non conoscenza Magari dove dobbiamo andare Adesso magari la seconda volta Già un po' la conosciamo La pista E no Come non detto Però Squisha tantissimo Vai vai Aspetta frena un po' No Vabbè Ci fermiamo contro le balle di fieno Oppela Spero che sia una scorciatoia No Cioè probabilmente sì ma Sicuramente avremmo perso ancora più tempo Che altro Schiantandoci Occhio Vabbè diciamo che la sofferenza della guida È sopportabile Grazie a Sound Occhio No Dai dai Gira Gira Di concentrazione e di rischio Eh vabbè c'è un po' Non squisha troppo Non No Ora vediamo di fare danni Vai vai così Olè Con estrema sofferenza ma ce l'abbiamo fatta dai Dai ok Anche questo è fatta Allora ragazzi ci fermiamo qui con questo episodio Perché ero andato avanti Perché ero andato avanti per completare il livello Ma alla fine è uscito un video lunghissimo Quindi ve lo divido in due parti Terminiamo qui con questo episodio Voi come sempre fatemi sapere la vostra Spero che il video vi sia piaciuto Nel caso lasciate un like Condividete Seguitevi su tutti i social Che trovate in descrizione Ci vediamo allora con il prossimo appuntamento Un saluto a tutti da Quel Taleale